Fabio, finalmente si ufficializza la presentazione al pubblico del tuo film, Terra di Nessuno. Sì, Terra di Nessuno, un film che presenteremo l'8 novembre presso la Sala Raimondi di Crotone, alle ore 18. Un appuntamento importante perché tu racconti una storia particolare, soprattutto metti in evidenza quello che dovrebbe essere il Calabrese, differente da quello che è. Sì, in realtà sì perché denunciamo un po' determinati personaggi che in Calabria ormai governano tra virgolette la società e noi cerchiamo di denunciare in chiave sociale perché non mostriamo tanta violenza ma mostriamo il lato anche debole delle persone. Quindi qual è il lato debole delle persone? Lato debole delle persone è la corruzione perché quando un personaggio viene corrotto dalla criminalità organizzata molte volte è costretto a ubbidire, diciamo, anche per salvaguardare la propria vita e la propria famiglia. Tenendo conto che i fatti di cronaca non ci mancano mai e soprattutto queste continue operazioni anche da parte delle forze dell'ordine, non solo calabresi, ma che uniscono il nord al sud, il tuo film è proprio un segnale su tutto questo? Sì, è un segnale, speriamo che la gente lo capisca e che questo segnale arrivi, specialmente ai giovani perché noi puntiamo sulla mentalità dei giovani che oggi purtroppo è un po' bruciata, tra virgolette. Quindi noi cerchiamo di sensibilizzare l'animo giovanile, perché nel film è molto presente questo argomento perché i protagonisti sono due ragazzi emigrati al nord e poi dopo tanti anni si rincontrano tornando a sud e cercando di cambiare un po' la situazione criminosa e non solo. Posso dire che quanto ci è messo a realizzare questo film? Dunque, le riprese sono durate un paio di mesi alla fine, quasi tre mesi e poi ci siamo dedicati alla post-produzione, alla buona riuscita di questo prodotto che per noi è il primo, perché noi veniamo dalla commedia, quindi è un esperimento questo, quindi non sappiamo nemmeno se la gente sarà felice di questo lavoro. Io spero di sì perché noi ce l'abbiamo messa tutta. O mi metto in testa, o mi metto in gioco anch'io, oppure, non so, o adesso mi faccio.